Ben ritrovati a Viola Express, Buongiorno, penultima giornata di campionato alle porte, la Fiorentina prepara la trasferta di Palermo per consolidare il quinto posto, ma a tener banco anche il futuro della Fiorentina a partire da quello dell'allenatore, allora tanti temi anche quest'oggi, io saluto e ringrazio Claudio Desolati. Buongiorno, grazie a te. Ritroviamo Fabio Ferri. Benvenuti a tutti gli amici Viola, grazie Erika. Iniziamo subito Claudio dal futuro della Fiorentina, perché in questi giorni si è molto parlato anche della figura in bilico di Vincenzo Montella, sono stati accostati vari allenatori alla Fiorentina, ma a tuo avviso innanzitutto Vincenzo Montella resterà o no? Ma sai, io qui dipendo da Montella e la società, Montella da come ha dimostrato è stato molto bene a Firenze, i tifosi l'hanno sempre apprezzato, aveva un allenatore molto bravo, competente, ha fatto già la squadra veramente molto bene. È normale che l'ultimo periodo non è stato molto contento, ha fischiato la squadra, ha fischiato Montella, visto che non hanno passato il turno dell'Europa League. Questo mi ha dato un passito anche a me, cioè purtroppo quando si perde bisogna anche accettare i fischi del pubblico, perché il pubblico paga e ha anche il dovere di applaudire o di fischiare la squadra, quando no va bene. Però l'applausi, cioè i fischi secondo me era per lui, per lui perché probabilmente sai, oggi il pubblico è competente del calcio, non è come una volta che, non tutti, però la maggior parte del calcio ne capivano pochissimo. È normale che, anche io ci sono rimasto male, infatti io dopo la partita contro l'ultima partita in casa per il passaggio dell'Europa League, io ero talmente arrabbiato che verso un quarto e mezzanotte ho portato fuori il mio cane, e ho visto lì vicino allo stadio, e ho incontrato poi il giornalista. E mi hanno fatto intervista in quel momento lì, mi hanno visto un po' arrabbiato. Ma perché sei arrabbiato? Sono arrabbiato prima di tutto perché io meraviglio che Montella abbia fatto il calciatore per tanti anni, è stato un grande campione, si sa perfettamente che per rimontare il 3-0 bisogna giocare con gli attaccanti, non si può giocare senza attaccanti, perché giocare senza attaccanti è molto difficile fare il gol. E mi sono detto anche, ma perché non ha fatto giocare Gomez? Gomez è normale che lui probabilmente quella giornata lì aveva in corpo quella partita persa in Spagna, è normale che lui voleva farsi rivedere, cioè far vedere che non è quel giocatore che tutti pensano e dicono, per dimostrare che è ancora male. E non l'ha fatto giocare. Ecco, lì mi sono un po' arrabbiato, perché non è giusto, non è giusto togliere un giocatore come lui, perché io lo reputo, è stato un grande calciatore, lo ha tuttora. Ecco, è normale che col gioco di Montella gioca pochissime palle. Gioca pochissime palle perché? Perché è la squadra che deve giocare per lui, non che lui si debba adattare al gioco di Montella, perché un giocatore alto 1,92 m non può essere rapido e veloce come Pepito Rossi. Allora io, allenatore, devo cercare di mettere in condizione il mio giocatore, che poi è stato un grande campione, ma in normale lui faceva gol nel bagno di Monaco. Cioè c'è un motivo, perché a destra aveva Ribéry, a sinistra aveva Romain, che durante la partita arrivavano 10 cross a destra, a sinistra e i due li buttavano dentro. Se poi a lui gli arriva due palle a gol e poi gli sbaglia, giustamente chi ha fatto il calciatore queste cose le vede. Poi l'attaccante, quando gioca con i compagni, l'istinto dell'attaccante è rubare l'attimo all'avversario. È normale che il compagno deve capire che io la palla la voglio subito, non me la puoi dare quando hai finito di tribulare i giocatori. A questo punto qui mi marcano e la palla non la prendo più. E questo mi ha dato un po' fastidio. Ecco, poi il resto è normale. Poi quando si perde la coppa di tutti, ce la siamo persi. Quindi a tuo avviso, insomma, in realtà Gomez a livello di numeri ha reso sotto le aspettative, ma a tuo avviso c'è anche il fattore gioco della Fiorentina, e dunque il giocatore potrebbe essere sfruttato in altro modo. Io ti ripeto, io parlo da calciatore e dalle doti che aveva Gomez. È normale che Gomez nel gioco di Montella non c'entra assolutamente niente. Perché lo vede va in difficoltà. Allora a tuo avviso il problema è a monte sul mercato? È a monte, certo. Per chi è stato fatto arrivare? E purtroppo è brava. Poi oggi si sa che quando si prende il giocatore dietro il giocatore ci sono anche altre componenti, altre cose che purtroppo neanche loro può stare a dire tutte le cose che puoi immaginare che ci sia sotto. Domenica la Fiorentina affronterà in Sicilia il Palermo, sarà la penultima gara di campionato, poi la gara casalinga contro il Chievo, e dunque in seguito il tanto atteso colloquio tra Vincenzo Montella e la proprietà per anche riuscire a chiarire il futuro della Fiorentina. Lo stesso Vincenzo Montella, Fabio comunque ha fatto presente nelle conferenze stampa, che il suo pensiero, la proprietà e la società lo conosce già da tempo. Si è parlato anche di tre mesi fa, ha detto sì la scorsa settimana Vincenzo Montella, e dunque poi ci sarà questo nuovo faccia a faccia tra i due. Diciamo che questo rapporto, come diceva anche Desolati, è vissuto su grandi momenti di amore, perché Montella è stato apprezzato dal pubblico, però ci sono stati in questi tre anni ovviamente anche momenti di scoramento da parte sia dell'allenatore sia da parte del tifo. Penso che siamo in uno di quei momenti che è particolarmente in basso nella storia di Montella a Firenze e della Fiorentina con Montella. Probabilmente siamo nel momento in cui più sembra traballante la figura dell'allenatore, di Vincenzo Montella. Ovviamente se ne riparlerà dopo la fine del campionato, anche perché, come sappiamo, c'è un obiettivo da raggiungere. però le sensazioni, le voci che si rincorrono non sono quelle di certezza di un Montella domani sulla panchina della Fiorentina. Quindi, certo, i nomi che circolano sono tanti. Staremo a vedere. Abbiamo preparato anche una scheda a proposito di questo. Allora chiedo alla regia il supporto della grafica. Noi abbiamo messo qua un po' il Totopanchina con Montella, Sarri, Di Francesco, Spalletti e Donadoni. Allora, facendo un po' le dovute distinzioni, ovviamente abbiamo messo anche un po' il modulo preferito. Montella è uno a cui piace il 4-3-3, dicevamo, o comunque che ha usato anche il 3-5-2. L'unico tra quelli riportati qua è Di Francesco che usa il 4-3-3 con il suo sassuolo. Abbiamo Di Francesco che è un allenatore giovane una tipologia di allenatore accostabile a Montella forse con un po' meno esperienza di Montella. Poi abbiamo Sarri che è un allenatore... Molto simile comunque. Sì, molto simile. Sarri è invece un allenatore espertissimo ormai l'abbiamo imparato a conoscere dopo questa annata di Serie A con il suo Empoli che invece è un allenatore che potrebbe avere un trade union con Firenze legato magari a un giocatore in particolare per modo Vecino, noi sappiamo che Aquilani dovrebbe andare via alla fine di questo mercato. Come vedresti Sarri e Vecino insieme a Firenze? Insomma ci sono un po' di suggestioni. Sì, anche se dobbiamo dire che comunque c'è stato un riavvicinamento tra Alberto Aquilani e la Fiorentina perché l'ultimo colloquio tra il nuovo procuratore D'Amico e la società sembra sia stato positivo. Quindi vedremo anche come si evolverà questa situazione. Noi abbiamo proposto Fabio questi nomi li abbiamo definiti il toto allenatore in realtà sono comunque i vari nomi degli allenatori che vengono accostati in questi giorni alla Fiorentina nel caso in cui Vincenzo Montella lasciasse Firenze. Ci possono anche aiutare in alcune riflessioni perché comunque Spalletti sì, Spalletti comunque vorrebbe senz'altro una grande rosa perché vorrebbe avere la possibilità di raggiungere risultati importanti. quindi una rosa come quella che aveva Vincenzo Montella non sarebbe adatta a risultati importanti come vorrebbe Spalletti. Io so che Spalletti, soprattutto lo conosco da una vita ha fatto il mio raccatta palle come si vuol dire, quando giocavo io però io lo reputo un grandissimo allenatore ha questo contratto ancora con lo Zenit. Lui ha sempre detto che vorrebbe finire la sua carriera a Firenze gli piacerebbe venire allenando la Fiorentina lui è disposto, secondo me, anche, non dico di dimezzare il suo ingaggio ma una buona parte, sono sicuro che... Ma vorrebbe comunque inserimenti importanti guardando la rosa attuale? Ma sai, giustamente io ho sempre detto che per fare una squadra la società deve avere due persone l'allenatore e il dottore generale cioè o direttore sportivo come si vuol dire perché sono gli unici due che possono fare la squadra nessun altro perché io, allenatore, io so che se io devo fare un tipo di gioco devo sapere chi prendere chiedo alla società se ha la possibilità perché non è utile che io voglio se poi non... comunque, se no il giocatore fa simile al giocatore famoso che vorrei prendere allora posso fare una squadra buona altrimenti qui, purtroppo, a Firenze sono 32 giocatori non lo so perché... Sì, di più, di più No, ecco, io faccio 32 ecco, ma la maggior parte di questi giocatori qui perché sono stati presi? Che io non riesco a... E quindi non c'è stato questo tre di union tra il dottore sportivo e allenatore brava Quindi a questo punto, a questo punto secondo te, in realtà, poi anche la responsabilità dell'allenatore è relativa? Infatti, delle volte vedi che certi allenatori non solamente Montella, ma diversi allenatori quando hanno tanti giocatori fanno giocare sempre i soliti cioè gli altri non li fanno giocare perché non l'ha chiesti lui non li vende condizione ma è normale che un giocatore se non gioca o si infortuna a giocare l'allenatore cioè, gioca una partita e si fanno male cioè, l'allenatore deve avere i giocatori quello che ha chiesto lui non quello che vengono perché, io lo so, è in vista di zincolo o perché è in prestito o perché è stato uno scambio cioè, giocano molto poco allora si vede poi alla fin fine i risultati sono sempre quelli Legato al futuro di Vincenzo Montella in questi giorni, i quotidiani soprattutto anche il Corriere dello Sporto Stadio a firma di Francesca Bandinelli ha parlato della permanenza o meno di Mario Gomez nel caso in cui Vincenzo Montella partisse ci sarebbe dunque più possibilità di vedere ancora in campo Mario Gomez sai, io, ripeto se io tengo, cioè, io Montella tengo Mario Gomez o mi adeguo o se no lo mando via cioè, cerco di, parlo con la società in cui dico, signori, io Montella, cioè il signor Gomez non ho bisogno perché il mio tipo di gioco non va bene va bene per Pietro Rossi, va bene a Balcare ma per lui non c'è posto di conseguenza uno deve prendersi la pregetta è cambiare aria come si vuol dire nel gergo però ecco, ma il discorso quello di Montella o rimane o no allora, il discorso di Montella ora, secondo me ci sono tante società vasonate, tipo Milan, Inter, Napoli ecco, non vorrei che una di queste società visto che hanno fatto il loro allenatore hanno fatto ben poco e sono un po' alla ricerca di un allenatore bravo e io penso che Montella in questo periodo qui abbia avuto diverse occasioni si è parlato di fatto di una chiacchierata con il Napoli tra le altre cose quindi, insomma, Napoli sappiamo che sarebbe una piazza gradita a Montella ovviamente perché napoletano ma poi insomma anche una società che ha dimostrato di poter investire tanto io però, insomma, la butto là magari è una provocazione Montella venne a Firenze con l'amarezza di non aver ottenuto la panchina della Roma visto che Rudy Garcia sembra un po' in crisi nel suo rapporto con la squadra capitolina potrebbe essere anche il momento magari per un ritorno di Montella a Roma ovviamente noi parliamo di ipotesi Sì, tra le tante ipotesi insomma, perché poi si avvicina il calciomercato la sessione estiva allora poi si dà spazio e sfogo anche alla fantasia tornano sempre i vari nomi come quello di Ciro Immobile ma non solo viene accostato alla Fiorentina anche quello il nome di destro poi per il centrocampo Val di Fiori che si è messo comunque molto in mostra sugli esterni Mario Rui accostato nuovamente anche Darmian insomma, i nomi che in questi giorni state leggendo sui vari quotidiani sono davvero tanti in realtà comunque il campionato deve ancora terminare alle porte la trasferta di Palermo e poi il Chievo in casa dopo queste due partite la società potrà insomma trarre le fila della stagione e capire insomma fare una propria valutazione e programmare in modo definitivo la prossima stagione andiamo alla probabile formazione della Fiorentina a Palermo tu Claudio ti aspetti un Gomez in campo? a questo punto qui no visto le ultime partite che non l'ha fatta nemmeno entrare non penso che Montella abbia intenzione di farlo giocare sei d'accordo con la nostra formazione? la formazione io di solito non la guardo mai non la guardo mai perché diversi giocatori sono fuori ruolo perché quel gioco che fa Montella non c'è non c'è un giocatore che fa il ruolo cioè sono tutti girano tutti per esempio Illic gioca c'entra avanti fazzo il nueve ma è un attaccante non è sicuramente un nueve lui nel Palermo giocava alla sinistra andava in fondo metteva la palla in mezzo e l'attaccante faceva il gol nella Fiorentina non l'ha mai fatto cioè l'ha fatto giocare perché ha fatto due contro l'Empoli ma per me non è l'attaccante non è un attaccante cioè lì sono tutti attaccanti perché la Fiorentina non c'è un capocannoniere ma il capocannoniere è Babacar che c'ha nove gol mi sembra nove giusto poi hanno fatto tutti i gol con il futuro incerto anche lui a Firenze però ieri sono arrivate schiaite per quanto riguarda il rinnovo infatti se era come dici te giustamente Erika un po' bloccati dopo l'infortunio poi invece sembra che il rinnovo arrivi fino al 2020 però ovviamente anche qua dobbiamo parlare di una probabilità perché il giocatore ha detto di voler restare a Firenze di trovarsi bene però ancora non ha firmato sì infatti stavo dicendo lo stesso giocatore ha tweetato il fatto di voler restare a Firenze che Firenze è la sua città però poi in realtà la firma sul contratto ancora non è arrivata così come non è arrivata quella di Federico Bernardeschi chi ti ha colpito di più Claudio della Fiorentina dei giocatori in questa stagione chi ti piace di più ma allora chi mi piace di più è stato Borca Valero per quale motivo perché è normale che ora l'ultimo partito sta perché è stanco morto perché un giocatore come lui che io vedo che quando la squadra avversaria dà la palla verso il loro portiere lui rincorre la palla e va a dar fastidio al portiere poi ritorna indietro cioè è un motorino corre più lui da solo che non dico tutti i mesi ma quasi è normale che poi si perde palla perché con il gioco che fa la Fiorentina il possesso di palla è molto bello perché la palla gira di qua di là cioè è un po' lento come movimento perché dà la possibilità all'altra squadra di rientrare la squadra della Fiorentina attacca sono tutti della metà campo della squadra opposta Borca Valero perde la palla non rincorre più nessuno Pizzaro perde la palla non fa nel tempo a rincorre ma ragazzi bisogna correre allora Borca Valero per me è stato uno dei migliori per me Claudio poi io non posso dare dare in realtà spesso poi dai tifosi sono definiti come uno dei peggiori in campo Fabio ultimamente sì perché ha perso diverse palle ma il pubblico non vede non si ricorda quando lui ha fatto delle belle cose delle belle partite cioè non si può ricordare perché uno perde una palla ma se uno ha fatto già 50 volte su e giù se perde la palla mi dite voi come fa a rincorrere la palla la colpa si dà a chi perde la palla giusto? ma non è che la pensa solamente lui perché i primi difensori sono gli attaccanti non è Borca Valero sono gli attaccanti cioè rispetto alle scorse stagioni insomma diciamo che il lavoro di Borca Valero dà meno nell'occhio ora dà meno nell'occhio fino all'anno scorso era sempre migliore in campo io sinceramente quest'anno quest'anno è con te io sono parzialmente in disaccordo mi permetto di essere in disaccordo ma ci mancheremo non mi sembra la stagione di Borca Valero ma l'abbiamo detto insomma ha corso tanto sicuramente insomma è un giocatore che ha dato tutto e ha dimostrato insomma di tenere la maglia della Fiorentina e lo dimostra in campo forse l'abbiamo elogiato tantissime volte sia come giocatore che come uomo ricordiamolo lo vedo sinceramente un po' più banale nelle sue giocate palla al piede detto questo non possiamo dare la responsabilità a Borca Valero di tutte le colpe del centrocampo della Fiorentina assolutamente anche perché insomma penso ci siano stati i giocatori più deludenti prima Claudio diceva di Mario Gomez per me insomma comunque rimane una stagione sotto la sufficienza ecco sicuramente a me sinceramente ha colpito più Salah di più Salah in questa stagione secondo me l'uomo immagine alla fine anche perché è arrivato con questa forza con questo impeto ha travolto anche i tifosi con il suo entusiasmo allora diciamo diciamo che qui bisogna parlare un po' Salah davanti con il cavale del mezzo ecco allora facciamo il distinguo per ruolo io non posso dire un giocatore perché non è un giocatore che va in campo ma sono ma poi è ingeneroso anche nei confronti di tutti gli altri Salah è un ottimo campione ha dimostrato che quando è arrivato subito ha fatto 7 gol 7 gol subito però anche lì ora per esempio cioè che Salah deve partire da metà campo prendere la palla per andare a fare i gol cioè per quale motivo non sfruttare le sue qualità quale sono la velocità un attaccante veloce come lui palla contro il pede parte e va in porta cioè anche lì manca manca un po' di forse anche lì è un po' il gioco di Montella che porta magari a non fare tante ripartenze veloci non lo so ma i gol che hai preso sono tutti i contropiedi e partono quando partono cioè poi è sempre più importante bravissimo bravissimo allora è normale che quando hai cioè allora il gioco va fatto con gli attacchi che tipo di giocatore hai? giocatori di palleggio diciamo ecco bravo e quindi giochiamo di palleggio contropiede ci andiamo poco però da quando è arrivato Salah forse un pochino di più perché ha quelle qualità non si parte non si va cioè si preferisce si verticalizzano aspettati di destra a sinistra se si sta a destra di destra a sinistra e diamo il tempo alla stessa cosa di rientrare tutti e per quanto abbiamo detto per reparto dunque Salah Borcavalero e per la difesa? che scegliamo che scegliamo allora la difficoltà dei difensori della Fiorentina perché? perché a centrocampo mancano dei giocatori difficoltori cioè tutti tutti quelli che noi abbiamo preso contropiede lì il difensore ha ben poco la colpa io tolgo colpa solamente ai difensori perché è normale che io vedo certi gol di attaccanti avversari e mi guardo e mi dico ma come? perché io guardo la palla se io ho il mio avversario davanti io guardo il mio avversario forse una bella donna forse anche me però per lavoro si può guardare anche un uomo per non far gol al mio attaccante però se io mi guardo la palla è normale che l'attaccante ha qualcosa in più e ti porta la palla e ti fa gol cioè tutti i gol che noi vediamo sono tutti gol un po' un po' sempliciotti come si vuol dire no? che poi si guarda la vicenda e dice ma no ma era tua no ma quella era tua no ma era suo cioè è tutto un darsi di colpe che poi alla fine non c'entra nulla però diciamo per me la difesa non è quella che mi aspettavo non è che mi aspettavo però purtroppo sai dire qual è stata per me Claudio non riesce a dire chiunque chiunque no per me non sai chi scegliere no no perché non ti rispondo io posso provare cioè Savic nella prima parte di stagione ha fatto un buonissimo campionato poi è andato un po' in calo cosa che non ha fatto Gonzalo Rodriguez che secondo me è partito con le marce ridotte è cresciuto nel corso della stagione segnando anche tanti gol sta anche segnando c'è da dire anche che magari c'è qualche rigore sbagliato sulle spalle che pesa però come diceva De Gregori ma non si può dare la colpa a lui non può così comunque come ce l'hanno più giocatori rigori sulle spalle sbagliati no certo poi in quest'anno poi lo dici De Gregori come ti spieghi questo Claudio anche io non ho mai capito io come mai questo giro di rigoristi un rigorista si sceglie l'inizio dell'anno il rigorista e il vice però se te scegli il rigorista magari Mario Gomez e poi lo teni sempre in panchina se il rigorista ce l'hai in panchina Pisarro può essere il rigorista però anche lui non ha sempre giocato ma se il rigorista non è sembra facile semplice ma si allena il tiro dal dischetto si può allenare o quanto incinano le caratteristiche personali perché Montella in conferenza stampa ha detto più volte che comunque è difficilmente allenabile il tiro dal dischetto e il calcio di rigore considerando il pathos e il clima della partita che c'entra che c'entra il clima della partita lì ti trovi uno che ha sangue freddo quanto dipende però da caratteristiche personali e quanto è allenabile allora è allenabile è che è normale che oggi tutti i portieri sanno su per giù dove la tiri la palla perché perché vengono filmati perché io penso che tutti i miei tempi non c'erano questi oggi tutti i portieri hanno delle cassette di tutti i rigoristi e se ci fai caso tutti i rigoristi calciano sempre nello stesso punto quando trova davanti se il portiere che ecco lì trova difficoltà ora non sa che fare o tiro forte o tiro piano o tiro lateralmente cioè ora lo devano parto un tiro forte e la palla va dentro però ci sono pochi giocatori che tranquilli vanno lì e mettono la palla però se sbaglia non succede niente qui se sbagli una volta non lo tiri più lo tiro a lui se sbagli a lui poi lo tiro io cioè in girare in girare che non va bene cioè devi dare il giocatore devi dare responsabilità poi se non si sente di tirare alza la mano vada il vice vada tira a te lui non è che poi di no non voglio tirare ci manca le volte però se sbaglia pazienza non è che è una colpa è che qui si cercano di nasconderci per tirare di vola perché visto che non hanno sbagliato i pari vecchi finiamo con i reparti al momento che abbiamo iniziato insomma a scegliere il migliore in ogni zona del campo importa? ma fa parte dei difensori non è il portiere fa parte del reparto difensivo e anche lui non mi potete esimere importa chi preferisce qual è la tua idea di questo dualismo comunque Neto-Tatarusano Neto che in realtà poi lascerà a Firenze Neto-Neto secondo me si è comportato anche non 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 bene nel confronto alla società perché se Neto è diventato Neto che deve ringraziare la Fiorentina e Montella perché ha avuto fiducia in lui l'ha messo in porta e ha dimostrato che sia un bravo portiere solamente per questo motivo qui Neto doveva firmare a Firenze parte il fatto per me era la società perché nel momento in cui vedi che Neto para bene perché tutti i giorni tutte le domeniche parava io lo chiamo vieni faccio un contratto una firmettina sotto questo affare e stai tranquillo lui lo faceva non puoi aspettare tutto l'anno e poi gli va a chiedere no a questo punto qui l'altra società quelle maggiori è normale che poi col procuratore aspetta aspetta visto che ti vogliono non firmare infatti dimostrazione cioè è un peccato vedere andare via Neto da Firenze andiamo Fabio però siamo in chiusura anche alla probabile formazione del Palermo io faccio l'outing adesso io sono per Tata Rusano al 100% e fra l'altro sono anche in contrasto con Maurizio Tanfani direttore sportivo ex direttore sportivo del Borga Bugiano che ci è venuto a trovare in questi giorni ha detto di preferire Neto io invece sono rimasto affascinato dalla freddezza con cui Tata Rusano è entrato all'interno di un gruppo ma certo ma deve essere un portiere deve essere ha dimostrato che non c'è Neto ma ci sono anche io esatto esatto ha dimostrato di essere un portiere di livello internazionale ricordiamoci Tottenham portiere forte anche solo il Rentino che però ha qualche primavera in più Palermo che gioca nel 3-4-1-2 ovviamente gli osservati speciali sono Vasquez e Dybala però occhio anche a Belotti che è un ottimo attaccante italiano che probabilmente avrà anche la prossima stagione per affermarsi a pieno in Serie A e occhio a Lazare che è un nome che magari si sente un po' meno ma è un giocatore in possesso di un gran tiro quindi anche dalla distanza può far male dietro piace molto anche a tante squadre di alta fascia Gonzales che è arrivato in corsa però è un giocatore che sta sempre più convincente e fra l'altro ha una media voto particolarmente alta perché ha un rendimento costante nel corso di questo campionato quindi un difensore particolarmente affidabile ora sicuramente mi smentirà facendo una frettata contro la Fiorentina però insomma questo è un po' vincere contro la Fiorentina sono queste le sue ultime dichiarazioni ricordiamo che sarà senz'altro anche un clima particolare perché probabilmente sicuramente anzi l'ultima partita in casa di Bala e quindi ci sarà molta anche attenzione su questo giocatore sai è un grande giocatore io l'ho visto giocare e giocano tranquillità ecco domenica la Fondriere sarà attenta perché giocheranno in contropiede perché questi due davanti sono velocissimi con quello che mette la palla questi due attaccanti io voglio dire ora la difesa come sarà messa in campo è che lì l'aiuto deve essere dei centristampisti perché se si fa il solito gioco si rischia si rischia perché andando in avanti poi la Fondriere viene contro il piede loro sono totalmente veloci perché l'hanno dimostrato un paio di volte vanno in porta e non li prendi più chiudiamo con la classifica Fabio perché la Fiorentina cerca i tre punti per essere sicuramente e matematicamente in Europa considerando anche l'esclusione del Genoa dalle prossime competizioni europee sì dà un po' di sicurezza questa cosa che il Genoa comunque è un inseguitore diciamo privato poi della possibilità effettiva di arrivare al traguardo è interessante vedere la posizione in classifica anche della Samp e dell'Inter che penso saranno le ultime due squadre a mollare perché devono cercare in tutti i modi di rincorrere il sesto posto chiaro che con i tre punti contro il Palermo la Fiorentina la matematica di essere in Europa League anche il prossimo anno se vogliamo Erika c'è anche il calendario se vogliamo chiudere guardando dando uno sguardo al calendario così vediamo anche le ultime due partite abbiamo pochissimi secondi ma intanto la regia eccolo qua in croci quindi la Fiorentina giocherà con Palermo e Chievo Genova contro Inter e Sassuolo Sampdoria contro Empoli e Parma Inter contro Genova e Empoli insomma diciamo il finale del campionato non è poi così complicato neanche per le inseguitrici perché ad esempio la Samp con Empoli e Parma ha un cammino abbastanza agilitato però insomma la Fiorentina ce la deve fare siamo arrivati Claudio davvero in chiusura io ti ringrazio grazie a voi per la nostra compagnia ritroviamo poi Fabio Ferri anche dopo perché prepareremo il TGT Sport questa sera continueremo a parlare di Fiorentina e poi vi ho l'Express attorno a lunedì ore 21.50 grazie di essere stati con noi grazie a tutti